80 ritarda del 4-meno-meno per ritardarsi 4-meno-meno doppio 20 anticipa del 5-tieni su dosso dritto 30 del 3 40 sinistri chiudi del 4-meno-meno 80 del 4-meno 100 sinistri del 3 per ritarda molto si 3 torna apre 40 40 del 4-meno per anticipa del 4-meno-meno-meno 80 del 3 chiude per ritarda si 3 in D3 più tieni per si 3 10 D3 chiude per si 3 più no 10 si 3 chiude in D1 40 40 si 4 tieni in ritarda D3 chiude 50 ritarda si 3 20 D3 torna 80 si 3 più tieni e subito subito D3 più tieni in D3 più 80 D3 torna tieni per si 3 apre chiude 3 torna in in C3 più in D3 torna no per si 3 doppio in D3 più vai 20 dosso dritto 50 si 1 largo 80 va bene Ale ok 80 D3 no lo tratticce poi si in C4 meno meno tieni torna in D3 torna apre 20 apre si 3 torna doppia in D3 torna D3 torna 20 si 3 più tieni in D3 più 50 destri si 1 largo in D4 tieni 30 chiudi D3 chiude torna scusa 30 si 3 torna 20 ritarda molto D3 torna apre 50 chiudi si 2 apre in D4 20 D3 più tieni e apre per D3 4 meno meno 50 in C4 in C4 meno meno tieni 50 chiudi si 3 per C3 più tieni in D3 in D3 tieni in C4 in D4 40 sinistri D4 meno meno per C3 4 meno meno in C3 50 su Gine D0 eccolo non lo vedo più eccolo lì meglio di 2 vai anticipa C5 lascia per ritarda C4 meno meno per C4 meno meno tieni 80 destri C3 più in D3 più torna subito C4 meno meno tieni 30 D3 più chiude torna 100 ritarda C4 meno meno tieni subito D4 40 C4 100 ritarda C4 meno tieni per chiudi D3 più 80 C4 meno meno tieni in D4 100 D4 meno meno tieni subito C4 meno meno lascia e subito C4 corto 200 giù 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 così ritarda D3 più tieni in C5 50 50 50 sinistri D3 più 80 destri C4 meno meno chiude fine di c4 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 Grazie.